e ciao a tutti ragazzi ben ritrovati su Altec20 tra la tecnologia smart di tutti i giorni oggi vi porto a marina di fuscaldo per andare a conoscere insieme gli amici di new phone quindi rimanete sintonizzati e buona visione ma prima di tutto non possiamo partire se non andiamo a fare una bella colazione che ne dite? batterie ricaricate e partiamo in direzione di fuscaldo ed eccoci qua arrivati a marina di fuscaldo per andare a incontrare proprio i nostri amici di new phone quindi li porto con me da loro eccoci qua con il nostro Raimondo buongiorno a tutti sono Raimondo e non vi ho detto che appunto new phone è specializzato nella vendita di prodotti apple ricondizionati e rigenerati ma soprattutto certificati esattamente garanzia sei mesi su tutti i nostri prodotti rigenerati apple partiamo da telefoni di 300 euro fascia 300 euro fino a circa 600 euro dagli iphone 11 agli iphone 13 ce n'è insomma per tutti i gusti ebbene ragazzi se avete seguito negli ultimi anni anche sul canale con diversi video che sono usciti la linea di apple qual è quella sempre più green quindi il famoso carbon free questa è anche la filosofia dei ragazzi di new phone mi spiegava proprio in questo istante il nostro caro Raimondo che anche loro stanno utilizzando questa filosofia ovvero andare a vendere prodotti rigenerati dalla possibilità appunto di sprecare meno materie prime e quindi se dovessi fare un regalo alla mia fidanzata mia figlia mia mamma una mia amica che iphone rigenerato mi consiglieresti sì sicuramente gli ultimi usciti della gamma rigenerati apple in casa new phone sono gli iphone 13 da 128 giga sono telefoni pari al nuovo tre colorazioni il rosa è bellissimo è appunto un telefono femminile e colgo l'occasione per affermare il fatto che il telefono rigenerato raggiunge due obiettivi immediati cioè quello del risparmio un telefono pari al nuovo pienamente efficiente che costa molto meno e soprattutto diamo lo sguardo al futuro all'ecologia bravo Raimondo e bravi gli amici di new phone mi piace questa loro filosofia e allora direi di continuare il tour del negozio per farvi vedere tutto quello che ho fatto e sempre rimanendo in casa apple non è che ci fermiamo solo agli iphone ma qua come potete vedere abbiamo i nostri apple watch serie 9 da 45 mm in tutte le sue splendide varianti ma anche l'Se l'S8 insomma l'abbiamo per tutti grande per tutti i gusti per non parlare poi amanti della buona musica della musica di qualità ricordo che per quanto riguarda la scelta degli auricolari tempo fa è uscito un video dove vi spiego come scegliere l'auricolare perfetto per le vostre orecchie andiamo a vedere quelle che possono essere le varie tipologie di auricolari più adatte per le nostre orecchie quindi in questo caso stiamo parlando di airpods per tutti i gusti e per tutti i prezzi ma non finisce qua perché se vogliamo uscire poi dal mondo apple possiamo trovare comunque altri marchi di tutti i gusti di tutti i tipi e soprattutto di tutti i prezzi e mentre io parlo raymondo vi sta preparando una chicca che non potete assolutamente perdere quindi rimanete sintonizzati guardate il video fino alla fine perché ci sarà veramente una bomba per tutti gli amanti del mondo apple raymondo mi raccomando per gli amici di altec 23 inventati inventati qualcosina ma non la spoileriamo perché la diremo a seguitemi poi abbiamo tutto quello che è il mondo samsung del mondo honor chi amo particolarmente ma perché no anche gli xiaomi con tutti i suoi modellini mentre continuiamo il nostro tour dei ragazzi di nufon poteva mancare anzi fabbio vantaggio mi sono proprio dimenticato del caposaldo di nufon colui che riporta in vita anche i prodotti più terastati trattati male e inutile che ve lo dico a fare ragazzi comunque il nostro cristian ciao cristian ciao a tutti ragazzi ciao allora cristian tu ci vuoi parlare un pochettino del mondo ipad sì non potevano mancare ovviamente gli ipad abbiamo ipad di nona generazione di decima generazione con ovviamente un accessorio fondamentale secondo me per gli ipad che sono l'apple pencil sia di prima che di seconda generazione che permette di utilizzare al massimo le capacità dell'ipad per lo studio per il gioco anche ma anche per un discorso lavorativo photoshop e via dicendo altri strumenti molto importanti e io non vi nascondo che proprio con l'ipad iniziai ad editare i primi video non sul canale ma i primi video così a scopo ludico ricreativo ed era veramente fondamentale l'utilizzo dell'apple pencil e stiamo parlando di 6 7 anni fa quindi le prime apple pencil che non erano così raffinate così precise come quelle di oggi ovviamente non solo casa apple ma anche altri marchi per altre esigenze anche per chi si vuole approcciare per le prime volte ad un tablet quindi parliamo di tablet più semplici e come dico sempre io ne abbiamo per tutti i gusti ragazzi vi ho parlato di una bomba beh è arrivato il momento di scoprire cosa sono riuscito a tirare fuori dagli amici di new phone quindi per tutti coloro che verranno qua e diranno mi manda al tech 23 sapete cosa succede abbiamo questo splendido macbook air da 13.3 pollici che stiamo parlando comunque il chip m2 ssd da 256 ram da 8 giga comunque lo lo conosciamo veramente bene lo utilizzo anche io lo utilizzo in tanti ed è uno di quei prodottini di casa è veramente ma veramente indispensabile allora cosa faranno gli amici di new phone per tutti coloro che verranno ti diranno ciao cristian mi manda al tech 23 per tutte quelle persone il prezzo che già è un prezzo vantaggioso scenderà di ulteriori 100 euro quindi vi porterete a casa il macbook air m2 a 999 euro in tutte le colorazioni prezzo uguale per tutte le colorazioni allora sai cosa facciamo cristian mi manda al tech 23 ok bene ragazzi la chicca la bomba è andata adesso vi porto anche dietro le quinte per farvi vedere cosa effettivamente il nostro cristian fa e come riesce a resuscitare tutti i vostri device andiamo un pochettino dietro le quinte cristian ci accompagna anche perché prima ho visto un microscopio mi chiedevo e mi chiedevo cosa ci fa un microscopio in un laboratorio di riparazione questi sono i nostri banchi nella quale effettuiamo una prima diagnosi ai dispositivi vediamo intanto che tipo di difetto anno in base a quello che ci dice il cliente e dopo un'attenta analisi si va ad analizzare in maniera ancora più approfondita tramite microscopio si va ad approfondire il discorso sulla scheda madre sui componenti elettronici più piccoli quasi invisibili a doppio nudo e tramite strumentazioni aria calda microscopi professionali riusciamo a intervenire su questi componenti a sostituire dicevamo new phone anche servizi e servizi di qualità adesso il nostro cristian cercherà di riassumere brevemente quelli che sono tutti i loro servizi principalmente sono di due tipologie la prima telefonia quindi tutto ciò che concerne schede e rete fissa a casa noi abbiamo iliad uno mobile windtravery mobile principali gestori come linea fissa la stessa cosa e poi i servizi di luce e gas fattori molto importante energia elettrica noi puntiamo sul green puntiamo su un'energia rinnovabile puntiamo su operatori che lavorano con queste energie enel e iren come operatori bene come potete vedere qua da new phone non ci facciamo mancare veramente nulla stavo pensando a un pacchetto per l'estate che comprenda un po di gadget accessori che potremmo sfruttare non solo al mare in piscina quindi caro Raimondo cosa ci puoi proporre oggi pacchetto sicurezza pacchetto divertimento localizzatore rintraccia oggetti ha una funzione essenziale poiché lo andiamo a inserire all'interno per esempio di una bag di una borsa di un trolley quando viaggiamo in tempo reale localizziamo il nostro trolley in attesa dello scarico bagagli per esempio ma può essere utilizzato per funzioni molto più pratiche lo posso inserire lo posso nascondere all'interno di una bicicletta all'interno di un motorino in tempo reale attraverso l'applicazione io localizzo il mio motorino la mia bicicletta quindi una sorta di air tag lo costo bello bello questo mi piace andiamo avanti cosa ci propone quindi sezione divertimento invece andiamo con una cassa bluetooth queste sono quelle casse quando andiamo al mare ci sentiamo la nostra musica di fianco abbiamo le signori che dicono cosa è questa musica comunque bella idea bell'oggetto anche con led dietro e se non ero anche resistente a spruzzi polvere e tutto quello che volete voi pallonate perché l'estate si gioca a bicicletta spiagge mi raccomando solo dove si può fare e per finire magari potremmo anche vedere un bel power bank sgs con il vostro logo perché no bello esattamente con display sul quale visualizza la percentuale della dell'autonomia rimanente volevo sottolineare il fatto che questa power bank fa ricarica rapida carica a 3 ampere quindi efficientissima efficacissima telaio in alluminio leggerissima e per finire non posso mancare un paio di cuffie della celli e ho chiesto in maniera specifica al nostro remondo remondo fai vedere qualche accessorio un pacchettino comunque che sia low cost quindi accessibile a tutti e infatti come potete vedere stiamo parlando di prezzi non eccessivamente sosi partiamo dai 20 euro 20 euro le cuffie sulle 30 insomma siamo sull'ordine delle 20 euro ebbene ragazzi come avete potuto vedere nella botte piccola c'è sempre il buon vino quindi i nostri amici di new phone possono tricci veramente tantissimi servizi tantissimi prodotti e soprattutto come sempre dico io di qualità e allora ragazzi vi ricordo sempre se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e lasciare un bel like e se volete che male non fa attivate anche le notifiche da fabio dal tech 23 dal nostro amico ciao a tutti e da christian che nel frattempo era scappato via è tutto noi come sempre ci vediamo alla prossima per tanti nuovi video mi raccomando iscrivetevi ciao belli ciao a tutti